Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della vanilla falcetrock Allora, io direi di esplorare un po' come ho Io direi di prendere un letto Così per cambiare perchè poi Si fa notte che ci sono i mostri Sapete già com'è la notte E l'unica cosa che ho dedicato è di prendere un letto Questo è il nostro appartamento nel corte E visto che non da solo Per adesso prendo questo letto E poi la giungo quando ci saranno i miei amici Forse, forse Perchè loro adesso non possono Ok ragazzi Andiamo Allora aiutati Non scuso Vedete delle porte Allora questo video si chiama Esploriamo la falcetrock La vanilla Allora adesso qui Facciamo qui Ma poi io mi chiedo Perchè 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 Qu'era Mi chiedo E mi chiedo Come ha fatto A venire a creare questa cosa di sopravivenza Mamma mia ... ... Andiamo. Y poi deve un uovo. Beh, questa sera il danza. Chacolica. Ok, poi, 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 mesuriamo il danza. Chacolica. 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 Questa è rispita Ok, no Vuol dire come Bravo Uomo Io ti do la porta Anche se devo fare avanti e indietro Allora, infatti Già è noioso Quindi andiamo da qualche parte Guardate ragazzi Guardate che gioco da città No, ma forse non è che Il gioco neve C'è neve Ragazzi scrivetemi nei commenti Se volete Se è giapponese o cinese O italiano Perché Io adesso ho scritto i tartelli in italiano Quando ci ho dato La sua vanilla Sono un po' alcuni Adesso i tartelli sono giapponesi E ce n'è No ragazzi I vecchi villaggi Non sono più come Nel 2020 2021 e 2022 Sono proprio quelli Venti No ragazzi Vi ricordatevi L'aggico di Mamma mia Erano bellissimi Erano i miei preferiti Questi Io prima non li avevo visti Guardano qua Ma sono tutte le stesse No, questo è più in alto Però è sempre uguale Non lo ricordo C'erano cose tutte uguali Le case Ah, infatti abbiamo un villager Buongiorno Buongiorno Adesso Te ne devi andare Perché per qualcuno Che non c'erano bene Perché Ma qui era così Ragazzi Se ve la ricordate Questa casa Io non No, mi ero fatta Solo che mi mancava Quello che rinfornavano I villaggi Beh, adesso Ho una vanilla Quindi Posso stare Perfetto E poi Apriamo In questi episodi Dovete ragazzi La casa La casa Perfetto E' esploriamo Le altre cose E' anche Questi due Archi La coltivazione La casa Inizia a cambiare Tipo qua Ho cambiato No, è sempre La stessa Ragazzi C'è stata nostra Ragazzi Mi sta venendo E' normale E' anche qui Quelcuno Devo uccide Perché Perché Gente Va Senti Un'altra L'aggione La lascio qui Allora Adesso Voglio vedere Le case Poi Questa La carriera Dove l'ho trovato Dove l'ho trovato Vabbè Dove l'ho trovato Questa casa Da dove ci entro Dove l'ho trovato Dove l'ho trovato Ragazzi Lo devo fare Non ci potevo entrare Dove l'ho trovato Dove lì Dove l'ho trovato rimane nuova giornata su minecraft esploriamo ancora un po' esploriamo le case e adesso dico è normale ragazzi i vecchi fabbri il vecchio fabbri io ovviamente ci sono ok ragazzi vi ricordate quando non c'era vi ricordate quando non c'era io la porto adesso nei villaggi che la porto adesso lo mettiamo qui così si può salire allora adesso qui c'è l'abbiamo praticamente esplorata il villaggio qui c'è qui c'è la chiesa qui c'è la chiesa qui c'è la chiesa del villaggio ragazzi io direi andare da questa parte qui c'è l'esplorato e l'esplorato e l'esplorato bene bene ragazzi per questo video è tutto ciao è qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è la chiesa qui c'è